Che il 600 fosse un'epoca di ingiustizie acclarate, conclamate, lo avevamo già capito nel corso della lettura dei Promessi Sposi. In questo capitolo diciannovesimo, che è al centro di questo video, risulta ancora più evidente come le decisioni prese ai piani alti influiscano negativamente e necessariamente sulla sorte di coloro che potenti non sono. I nipoti Rodrigo e Attilio hanno fatto pressione al conte zio perché interceda presso il padre provinciale per ottenere l'allontanamento di Fra Cristoforo e quindi noi assistiamo ad un banchetto, anche questo è un elemento di distinzione perché abbiamo ben presente lo stato di carestia che è in atto e in casa invece del conte zio si tiene un banchetto. Un banchetto al quale, dice il narratore, sono stati invitati propriamente una corona di commensali assortiti con un intendimento sopraffino. Da una parte qualche parente dei più titolati in modo tale da indurre il padre provinciale a comprendere che con il conte zio c'era poco margine di discussione perché poteva vantare dei parenti altolocati, quindi di alta dignità e dall'altra parte alcuni clienti, cioè persone sottoposte, persone che sono inclini sempre ad esprimere il loro assenso, quindi caratterizzate da un fare adulatorio e che sono legate alla casa del conte zio, dice il Manzoni, da una dipendenza ereditaria. Tutto questo per sortire nella testa del padre provinciale, ospite per l'occasione, ma ribadisco è un banchetto organizzato ad hoc, per sollecitare in lui l'idea che col conte zio c'era poco da scherzare, c'era poco margine di discussione. Questo banchetto occupa la prima parte ed è interessante perché appunto nel corso del colloquio tra il conte zio e il padre provinciale possiamo ancora una volta riflettere su concetti come il potere e la giustizia e poi invece nel proseguo abbiamo un rapido riferimento all'ordine dato a Fra Cristoforo di allontanarsi, di recarsi a Rimini per appunto una nuova missione, un ordine anche perentorio perché gli viene ingiunto di interrompere qualunque affare avesse in piedi e di interrompere anche di non tenere alcuna corrispondenza con le persone del luogo, quindi si punta a rimuoverlo e ad isolarlo dalle persone con cui appunto poteva intrattenere delle relazioni. E nell'ultima parte del capitolo viene intanto introdotta questa figura enigmatica dell'innominato che vedremo poi in azione nei capitoli successivi. L'apertura del capitolo è affidata ad una similitudine. Chi nell'ambito di un campo mal coltivato trovasse un erbaccia e fosse portato a chiedersi da quale seme sia nata, se da un seme maturato nel campo o portatovi dal vento o lasciatovi cadere da un uccello difficilmente verrebbe a una conclusione legittima plausibile. E questa similitudine viene introdotta per spiegare che è difficile capire, il narratore in questo senso limita la sua onniscienza, se la decisione di procedere a favore dei nipoti del conte zio sia maturata in seguito al colloquio con Attilio, il nipote, oppure se non sia stata legata frutto del carattere del conte zio e quindi a dire che comunque avrebbe potuto anche arrivarci da solo e procedere come appunto abbiamo detto. Ma sicuramente ha giocato forte il discorso del nome del suo nipote, quindi un puntiglio legato alla casata, una questione d'onore come era di norma al secolo e quindi punto essenziale, punto nel vivo, perché la reputazione del potere gli stava tanto a cuore. D'altra parte bisogna considerare che lo zio, il conte zio, conosce bene i suoi nipoti e se avesse lasciato fare a don Rodrigo sicuramente la situazione si sarebbe volta al peggio. Tanto più che c'è un altro discorso importante, già sappiamo che i conventi in fondo assicuravano immunità, cioè mettevano le persone al sicuro dalla giustizia e quindi in questo senso ordini, forza legale, spauracchi di un tal genere non potevano nulla rispetto al clero regolare. Il clero regolare secolare era fatto immune da ogni giurisdizione laicale, quindi non restava che fare in modo di allontanare il fracristoforo dal convento e il mezzo per cui questo si sarebbe potuto realizzare era proprio parlare con il padre provinciale perché è nelle sue mani e risiede proprio la capacità di poter disporre degli uomini della chiesa. Veniamo poi a sapere che tra il padre provinciale e il conte zio passava un'antica conoscenza, si erano venuti di rado ma sempre con grandi dimostrazioni di amicizia e con esibizioni sperticate di servizi e aggiunge il narratore che alle volte è meglio avere a che fare con uno che sia sopra molti individui che con uno solo di questi. Il conte zio invitò dunque un giorno a pranzo il padre provinciale insieme, come abbiamo detto all'inizio, a suoi parenti e a tavola si tengono dei discorsi. Parlano di Madrid perché il viaggio alla corte di Madrid rappresentava un punto d'orgoglio per il conte zio, poi si parla del cardinale Barberini che era un cappuccino e fratello del papa allora in carica, urbano ottavo e intanto il padre provinciale siede accanto al conte zio e lo lascia parlare finché viene il momento che i due si allontanino, che passino in un'altra stanza e quindi si confrontino. Due potestà, due canizie, due esperienze consumate si trovavano di fronte. L'apertura è affidata al magnifico signore che fece sedere il padre molto reverendo, attenzione ai termini, all'aggettivazione molto carica, ed esordisce il padrone di casa parlando dell'amicizia che intercorre tra loro e deve quindi proporgli un affare di comune interesse da concludere tra di noi senza andare per altre strade che potrebbero, e perciò alla buona, col cuore in mano, le dirò di che si tratta. E in due parole sono certo che andremo d'accordo. Una caratteristica del conte zio è che gli parla ma lascia sospeso il discorso, dice mezze parole, insinua. Molto spesso abbiamo la figura retorica della reticenza, cioè del fatto che il non detto alla fine pesa molto più delle parole che i due si dicono. Insiste sul concetto di amicizia, sulla necessità di risolvere la cosa. Questa è una costante, questa anzi fa parte della sua linea argomentativa, vale a dire la necessità, come dirà poco dopo, di sopire e troncare, di mettere a tacere, di porre fine ad una questione spinosa che però non viene detta subito, viene ritardata. La ragione di questo colloquio, quello che la richiesta, anzi, del conte zio viene ritardata, viene spostata più avanti. Adesso ci sono le prime schermaglie, in cui ovviamente il padre provinciale è sulle difensive. Viene subito messo davanti però il nome di padre Cristoforo, sul quale chiede il conte zio dei raguagli e gli chiede schiettamente da buon amico, tenendo conto che i cappuccini sono ben noti alla sua casata, sono uomini d'oro, zelanti, prudenti, è stato amico fin dal ragazzo dell'ordine, ma riscontra anche che c'è sempre qualche individuo, qualche testa e chiede, conferma se per caso questo Cristoforo non sia amico dei contrasti e che non abbia tutta quella prudenza che sarebbe necessaria. Il padre provinciale inizia a pensare. Ecco un altro aspetto interessante di questo colloquio, il fatto che il padre provinciale pensi e quindi il narratore ci mette nella condizione di seguire i suoi pensieri, le sue considerazioni e poi si esprima naturalmente in modo diplomatico. La prima cosa che pensa il padre provinciale che ho inteso è un impegno, è colpa mia. Io sapevo che quel benedetto Cristoforo era un soggetto da farlo girare di pulpito in pulpito, ma nella risposta risulta chiaro che a suo giudizio si tratta di un religioso puntini puntini esemplare in convento e anche molto molto stimato. Ma l'altro rincara la dose da amico sincero, intende avvertire il padre provinciale che senza mancare ai miei doveri intende metterli sotto alcune conseguenze, metterle sott'occhio certe conseguenze possibili, puntini puntini, non dico di più. E a questo punto gioca allo scoperto perché dice che questo padre Cristoforo sappiamo che proteggeva un uomo di quelle parti, un uomo di cui vostra paternità avrà sentito senz'altro parlare, un uomo che è al centro di uno scandalo perché si è sottratto alla giustizia nel milanese e fa pure il suo nome Lorenzo Tramaglino. Un'interiezione ha nella testa del padre provinciale e poi l'affermazione che questa circostanza gli riesce nuova. D'altra parte lui la spiega così e consuetudine che per che i capucini vadano sempre in cerca dei traviati, quindi aiutino coloro che sono in difficoltà, coloro che abbandonano la retta via. Ma detta del conte zio si tratta comunque di cose spinose, di affari delicati per cui egli ha ritenuto opportuno darne un cenno al padre provinciale soprattutto in modo tale da prevenire alcuni provvedimenti addirittura da Roma a suo carico o a suo danno. Il padre provinciale dice che chiederà sicuramente, prenderà delle informazioni a proposito ed è certo che padre Cristoforo che egli conosce bene avrà avuto a che fare con l'uomo semplicemente per mettergli il cervello a partito. Il conte zio fa riferimento a conferma della sua idea sul conto di padre Cristoforo a quello che è stato il suo passato, il suo passato burascoso, già lei sa meglio di me che soggetto fosse al secolo, le cosette che ha fatto in gioventù. Ma il padre provinciale che non si lascia metter sotto replica che è proprio una gloria dell'abito che chi lo indossi in fondo diventi un altro. Non è convinto di questo il conte zio? Dice vorrei crederlo e aggiunge anche un proverbio e dice l'abito non fa il monaco. A dir la verità avrebbe voluto dire il lupo cambia il pelo ma non il vizio che osa il narratore onnisciente ma in realtà sarebbe stata una una provocazione troppo forte. E comunque è interessante osservare come anche questi due uomini che appartengono a classi alte non sono dei popolani ricorrono ai proverbi nel loro discorso. Finora l'avevamo trovato soltanto nel modo di esprimersi degli umili. Il conte zio assicura che ha dei riscontri cioè ha delle prove e insiste il padre provinciale a tranquillizzarlo circa il fatto che chiederà informazioni perché è un superiore e quindi il suo compito è proprio quello di correggere e di rimediare. Ma c'è un altro argomento che il conte zio intende introdurre, un'altra cosa disgustosa e siamo arrivati al punto perché dichiara espressamente che lo stesso padre Cristoforo ha preso a cozzare con mio nipote Don Rodrigo. Di fronte a questo il padre provinciale dichiara tutto il suo dispiacere, provvederà a ricavare delle informazioni e giustifica l'atteggiamento eventuale di disturbo di padre Cristoforo dicendo che in fondo con un'espressione proverbiale tutti siamo di carne. Il punto è questo che la questione deve essere messa a tacere dice il conte zio rivolgendosi a vostra paternità la questione è da finirsi tra di noi, da seppellirsi perché non è il caso che la cosa procede oltre. Appunto il suo moto è soppire e troncare, troncare e soppire. Suo nipote sa benissimo che è giovane e che pertanto ha le inclinazioni di un giovane e tocca a noi che abbiamo i nostri anni e gli sfugge un purtroppo padre molto reverendo e ci sono dei puntini di sospensione ma la frase finirebbe con tocca a noi che abbiamo purtroppo i nostri anni porre rimedio alle situazioni e quel purtroppo viene amplificato da una similitudine, una similitudine che quasi fa sorridere perché come nel mezzo di un'opera seria per sbaglio si alza uno scenario prima del tempo e si vede un cantante che non pensando di essere davanti al pubblico discorre alla buona con un buon compagno così quel purtroppo fu altrettanto naturale. Lì non c'era politica era proprio vero che gli dava noia di avere i suoi anni. Per quale ragione? Non certo per una forma di rimpianto per i passatempi, il brio della gioventù ma il fatto è che il conte zio era ambizioso e che sperava in un posto più alto. Avrebbe preferito salire ulteriormente nella scala sociale e questo sicuramente gli avrebbe permesso di morire contento citando il narratore ma quindi questo suo purtroppo è legato alla constatazione che quelli che erano quelle che erano le sue mire ambiziose era consapevole che sfumavano, sarebbero rimaste tali, non si sarebbero realizzate proprio per l'avanzare della sua età. E poi il narratore dice per lasciare parlare lui tocca a noi aver giudizio per i giovani e cita il latino, ancora il latino nei promessi sposi, principis obsta, che significa obsta è un imperativo, vuol dire opponiti agli inizi, bisogna allontanare il fuoco dalla paglia, dice con espressione proverbiale e quindi sarà ben opportuno che il padre provinciale provveda a trovare la nicchia conveniente a questo religioso. E poi c'è un'altra circostanza che è quella relativa all'amicizia sospettosa con Lorenzo Tramaglino e quindi in questo senso con un'operazione sola, collocandolo in qualche posto un po' lontanetto, facciamo un viaggio e due servizi. E quindi il padre provinciale tra sé e sé finalmente capisce quali sono le motivazioni della sua presenza nella casa del conte zio. Questa conclusione il padre provinciale se le aspettava fin dal principio del discorso, vedo dove vuoi andare a parare delle solite. Quando un povero frate è preso a noia da voi altri o da uno di voi altri o vi dà ombra, subito senza cercar se abbia torto o ragione, il superiore deve farlo sgomberare. E dopo che il signor conte emise un lungo soffio a dire che la questione era chiusa, il padre provinciale aggiunse intendo benissimo quel che il signor conte vuol dire, ma prima di fare un passo e quindi fa un cenno di resistenza. Ma l'altro non recede e in modo sicuro dice è una cosa naturale, una cosa ordinaria e se non si prende questo ripiego e subito prevedo un monte di disordine, un'iliade di guai. Bellissima l'espressione, un'iliade di guai vuol dire una guerra legata a tanti casi ostili, a tanti casi difficoltosi. L'iliade, un assedio della città di Troia, ha durato addirittura una decina d'anni. Ma al punto in cui la cosa è arrivata, se non la tronchiamo noi senza perdere tempo, con un colpo netto, non è possibile che si fermi, che resti segreta. E fa quasi delle intimazioni perché dice che a quel punto non è più coinvolto soltanto il nipote, ma si stuzzicherebbe un vespaio, padre molto reverendo. Lei vede, siamo una casa, abbiamo attinenze e queste attinenze sono da intendersi in senso negativo. Può vantare influenti conoscenze e relazioni che sicuramente nuocerebbero al padre provinciale, che aggiunge a quel abbiamo attinenze un aggettivo cospicue. E qui si capisce ormai, i giochi sono chiari, perché il conte zio parla di puntiglio, dopo più sotto dirà affare di corpo, significa che la famiglia si chiude nella difesa dei propri privilegi e quindi dei propri parenti. Sarebbe un vero crepacuore per me di dovere, di trovarmi, sempre i puntini, l'allusione, il discorso sospeso. Io che ho sempre avuto tanta professione per i padri cappuccini, quindi alla fine minaccia un esito che potrebbe essere davvero disastroso. I padri cappuccini aggiunge hanno bisogno di pace, di non avere contese e poi hanno dei parenti al secolo. qui la minaccia è esplicita, vale a dire che le ritorsioni potrebbero addirittura ricadere sui familiari, su coloro che sono laici, che hanno una loro vita, una loro famiglia. Io mi trovo in questa benedetta carica, conclude il conte zio, che mi obbliga a sostenere un certo decoro. Sua eccellenza, i miei signori colleghi, tutto diviene appunto, lo dicevo, affare di corpo. Il padre provinciale a questo punto obietta che un simile provvedimento potrebbe essere letto come una punizione, ma l'altro suggerisce piuttosto di parlare di un provvedimento prudenziale per impedire i sinistri che potrebbero, puntini, puntini, mi sono spiegato. E c'è sempre il rischio però che Don Rodrigo si vanti di questa sua vittoria sull'ordine. A questo punto è il padre provinciale a parlare dell'onore dell'abito, per cui si preoccupa che l'onore dei cappuccini, della dignità dei cappuccini sia messa in discussione, irrisa addirittura, da Don Rodrigo che potrebbe vantarsi di aver ottenuto tanto. Ma il conte zio però lo tranquillizza dicendo che il nipote, che è Don Rodrigo, farà quello che gli prescriverò e ribadisce anche sotto che darà gli ordini a suo nipote, comanderò a mio nipote. L'importante è che queste cose che loro fanno tra di loro, da buoni amici, abbiano l'esito che lui si attende. Che bisogno abbiamo poi noi di rendere conto? Noi che vediamo, noi che prevediamo, noi che ci tocca, non dobbiamo poi curarci delle ciarle. La conclusione è presto detta. Il padre provinciale sa che c'è bisogno a rimini di un predicatore e ribadendo che il tutto avverrà molto presto, si congedano e naturalmente per il conte zio è una vittoria non da poco, in modo meschino quasi aggiunge se posso qualche cosa tanto io come la mia famiglia per i nostri buoni padri cappuccini e l'altro ribadisce parole di concordia, conosciamo per prova la bontà della casa. Ma a questo punto il padre provinciale si alza pure lui, si avvia verso l'uscio dietro al suo vincitore. Abbiamo spento una favilla e conclude la parola ultima e sempre al conte zio, tra buoni amici con due parole si accomodano di gran cose. Un grande studio, una grande arte di gran parole metteva quel signore nel maneggio di un affare ma produceva poi anche effetti corrispondenti e in questo caso la riuscita di quel colloquio si vide subito nei risultati perché a padre Cristoforo viene dato l'ordine di trasferirsi da Pescarenico a Rimini, il narratore commenta con triste ironia che è una bella passeggiata. Gli viene dato l'ordine, trasmesso l'ordine da un cappuccino di Milano ed insieme all'ordine di trasferimento anche la doppia ingiunzione, come si diceva, di deporre ogni pensiero d'affari che potesse aver avviato nel paese e il divieto di relazioni per corrispondenza epistolari con le persone del luogo. Il pensiero di Fra Cristoforo naturalmente corse a Renzo, Lucia ed Agnese, si chiese infatti che cosa avrebbero fatto dopo il suo allontanamento ma poi alzò gli occhi al cielo e si accusò di aver mancato di fiducia di essersi creduto necessario a qualche cosa. L'ultimo colloquio rapido, il congedo, è con il padre guardiano che lo tirò in disparte e gli diede quell'altro avviso, le due ingiunzioni di qui sopra, con parole di consiglio e con significazione di precetto. Quindi gli da intendere che è un consiglio ma in realtà è un ordine che dovrà assolutamente osservare e a questo punto Fra Cristoforo esce momentaneamente di scena prendendo la strada che gli era stata prescritta. Nell'ultima parte del capitolo ci viene presentato un personaggio che sarà centrale nei capitoli successivi, l'innominato, che entra in gioco perché a lui pensa di rivolgersi Don Rodrigo, il quale vuol venire a capo della sua bella impresa e pertanto si era pensato, aveva pensato, di cercare il soccorso di un terribile uomo. Ora per noi resta l'innominato perché come il narratore precisa non è in grado di dare nel nome, nel cognome, né un titolo e nemmeno una congettura. Perché nonostante di lui si parli, si conservi la memoria in più di un libro, tutti gli autori si sono ben guardati dal riportarne il nome, un grande studio a scansarne il nome. E allora ecco che si ricorre sempre a delle perifrasi, un signore altrettanto potente per ricchezze quanto nobile per nascita. E a questo punto Manzoni non perde l'occasione per citare quella che per lui è una fonte autorevole, la storia patria di Giuseppe Ripamonti, il quale in un bel latino da cui traduciamo, dice il narratore, come ci riesce, espressione ironica di modestia, riferisce il caso di un tale che era tra i primi, tra i grandi della città e aveva stabilito la sua dimora in una campagna, in una zona di confine. E si rende forte, si crea una posizione di forza, non tenendo in alcun conto i giudizi, i giudici, ogni magistrato, la sovranità, ma conducendo una vita del tutto indipendente, facendo da ricettatore, dando accoglienza ai fuoriusciti ed essendo lui stesso stato un fuoriuscito. Questo è il quadro iniziale attraverso le parole di Ripamonti che ci consegna il ritratto di un uomo che per passione, che cosa faceva? Faceva tutto ciò che è contro la legge, contro il lecito. Fare ciò che era vietato dalle leggi o impedito da una forza qualunque, essere arbitro, padrone negli affari altrui, senza altro interesse che il gusto di comandare, essere temuto da tutti. Questo, tutte queste cose corrispondono alle passioni dell'innominato. E quindi il narratore ci dà delle informazioni preziose sul conto dell'innominato, sulla sua gioventù. Dice che fino dall'adolescenza, allo spettacolo e al rumore di tante prepotenze, di tante gare, alla vista di tanti tiranni, il sentimento che provava era un misto di sdegno e di invidia. E dice ancora che andava in cerca delle persone più potenti, dei ribaldi, per mettersi alla prova con loro, per farli stare a dovere oppure per indurli a cercare la sua amicizia. Lo definisce superiore di ricchezze e di seguito alla maggior parte e dice che indusse molti a ritirarsi da ogni rivalità. Altri li conciò malamente, altri ne ebbe amici, ma nessuno amico al suo pari grado, perché erano sempre amici comunque subordinati. E per contro, rispetto a questi suoi subordinati, lui era sempre disposto a intercedere, ad agire in loro favore, perché di fatto era il faccendiere, lo strumento di tutti coloro. Non poteva tirarsi indietro perché altrimenti avrebbe visto ridursi la propria reputazione. E furono talmente numerose le azioni che egli compì che a un certo punto gli fu ingiunto di uscire dallo Stato. E viene ricordato, sempre dalla fonte dal Ripamonti, che egli uscì dallo Stato, si preparò ad andare in esilio, ma lo fece non alla chitichella di nascosto, ma addirittura attraversò la città a cavallo con un seguito di cani a suon di tromba, passò davanti al palazzo di corte e lasciò alla guardia un'imbasciata di impertinenze per il governatore. Un tratto che lo caratterizza dunque è l'arroganza e anche l'irriverenza nei confronti delle autorità. Eppure essendo assente, lontano, comunque curò i propri rapporti attraverso le corrispondenze e si venne a creare, si rafforzò in questo senso, una lega occulta di consigli atroci e di cose funeste. Anche alcuni principi esteri si valsero più volte dell'opera sua e addirittura mandarono a lui degli uomini in rinforzo. E quando finalmente poter rientrare nel territorio del milanese, o perché il bando fosse stato levato o perché la sua audacia gli garantisse una sorta di immunità, egli andò ad abitare in un castello confinante col territorio bergamasco. Un luogo che aveva una nomea assolutamente negativa, era come un'officina di mandati sanguinosi. Le persone che lo circondano, i servitori, avevano per mestiere quello di troncare teste. Era una bella famiglia domestica, detto con ironia da parte del narratore. Ed oltre a questa, l'innominato poteva vantare un'altra famiglia di soggetti simili, dispersi e pronti comunque sempre ai suoi ordini. Tutti i tiranni, per un bel tratto di paese all'intorno, avevano dovuto misurarsi con lui. Per gli altri era fondamentale, era ineludibile la necessità di scegliere tra l'amicizia e l'inimicizia di quel tiranno straordinario. Ed è un tiranno straordinario per quale ragione? Perché il suo potere travalica i confini della terra sulla quale egli esercita il controllo. Più sotto il narratore dice che la fama dei tiranni ordinari rimaneva per lo più ristretta in quel piccolo tratto di paese dove erano i più ricchi e i più forti. Mentre invece, per contro, la fama di questo nostro era già da gran tempo diffusa in ogni parte del milanese. Quindi la sua vita era un soggetto di racconti popolari. Che cosa succedeva? Succedeva che di fronte ad un simile uomo era impossibile conservare la propria neutralità. Nel bene o nel male bisognava comunque schierarsi dalla sua parte perché se gli si fossero andati contro si rischiava di finire davvero in disgrazia. Dunque chi aveva osato resistergli era finito male. Se qualcuno intendesse badare ai fatti suoi questo era impossibile perché comunque si sarebbe intromesso nei suoi affari, avrebbe mandato un messo per intimargli di abbandonare un'impresa che cessasse di volestare un debitore e quindi ci si trovava a dover rispondere sì oppure no. E anche chi con omaggio vassallesco si rivolgesse a lui per trovare una soluzione a una questione difficile da dipanare era necessario che l'altra parte, la controparte, si attenesse alla sua sentenza o che si dichiarasse in alternativa suo nemico. Si rivolge all'innominato sia a chi è intorto per passare dalla parte della ragione e sia a chi aveva ragione necessitava di un così alto patrocinio. In questo modo divenne potente perché sia gli uni che gli altri divenivano suoi dipendenti. Qualche volta è capitato anche che l'innominato prendesse le parti di un debole oppresso vessato da un prepotente e in questo caso se l'è vista brutta il prepotente perché l'innominato lo indusse a finire, gli mosse addirittura guerra, lo portò al punto di uscire dai propri territori e quindi di subire anche delle punizioni molto gravi. Il punto è che tutto questo quadro porta a che cosa? Alla considerazione che l'innominato si era creato una posizione di forza, rappresentava a lui la forza e la giustizia al cospetto della quale nessun'altra forza, né privata né pubblica, avrebbe potuto garantire un rimedio, un compenso, una giustizia per i casi del tempo. La forza dell'innominato è comunque una forza negativa. È ministra di voleri iniqui, di soddisfazioni atroci, di capricci superi. E il suo nome significava qualcosa di irresistibile, di strano, di favoloso. L'innominato è legato a quest'aura di mistero. È un'aura che suscita sospetto in tutti e che soprattutto induce, fa nascere negli animi, un terrore cupo che è legato soprattutto all'incertezza di non conoscere bene chi fosse nella maglia dei suoi affiliati, chi fossero le persone a lui collegate. Ed è un mito dunque che cresce nel terrore, al punto che quando si vedessero comparire figure di bravi sconosciute e più brutte dell'ordinario o quando anche capitasse qualche fatto enorme di cui non si sapesse indicare o indovinare l'autore, era prassi che si mormorasse il nome di colui che noi, dice il narratore, grazie a quella benedetta, per non dire altro, circospezione dei nostri autori saremo costretti a chiamare l'innominato. E nell'ultima pagina del capitolo Don Rodrigo decide di raggiungere il castellaccio dell'innominato per chiedere il suo aiuto. Aveva già avuto relazioni con l'innominato, proprio alla luce di quella che era la necessità di fare una scelta che abbiamo visto come una caratteristica nei rapporti che si dovevano ottenere buoni con l'innominato e gli era divenuto amico e gli aveva reso più di un servizio. Che cosa gli accomuna? Il fatto che Don Rodrigo in fondo sia un tiranno su scala minore. Voleva fare il tiranno ma non il tiranno selvatico. Dice il narratore la professione di tiranno era per lui un mezzo e non uno scopo. D'altra parte un'amicizia di questo tipo, una lega con un uomo di quella sorte, non doveva riuscire troppo gradita al conte zio ma la necessità dei tempi ha imposto la creazione di questo legame. Era una relazione indispensabile con un uomo la cui nemicizia era troppo pericolosa e così riceveva scusa dalla necessità. Ed è un'ultima considerazione sulla quale ci soffermiamo quella del narratore secondo cui chi ha l'assunto di provvedere, cioè il compito di provvedere e non ne ha la volontà o non ne trova il verso, alla fine decide, lascia che altri provveda da sé fino a un certo segno ai casi suoi e se non ha consente espressamente chiude un occhio. Una considerazione amara sulle abitudini degli uomini, sull'attitudine degli uomini a demandare rinunciando in fondo alla responsabilità delle proprie azioni. Discorso che si attaglia perfettamente se riferito alle questioni della giustizia o alla questioni della politica. Il capitolo è dunque agli sgoccioli. Una mattina Don Rodrigo uscì a cavallo in tenuta da caccia con una piccola scorta di bravi a piedi, il griso alla staffa e quattro altri in coda e si avviò al castello dell'innominato.